Italia è al primo posto tra le dieci nazioni più importanti d'Europa per infrastrutture, strade e treni, ma in Molise ed Abruzzo la situazione è tragica, specie per il trasporto su rotaia. Il livello è talmente insopportabile da mettere in discussione quel diritto alla mobilità dei cittadini sancito dalla nostra Costituzione, scrive la Cigelle Abruzzo e Molise, dopo la diffusione dei dati di legambiente del rapporto pendolaria 2018. Dallo studio sono emersi due aspetti fondamentali, che la rete ferroviaria in Italia resta un bisogno primario per i cittadini che si espostano e che dove si realizzano gli investimenti i pendolari prendono il treno regolarmente. Cosa che non avviene in Molise e in Abruzzo, dove gli investimenti su rotaia sono praticamente nulli, mentre in Italia si osserva un 8% di viaggiatori in più, la nostra regione ha toccato un meno 11% e l'Abruzzo un meno 39% in soli 8 anni. In Molise è invece al primo posto per i tagli e i servizi registrati nello stesso arco temporale, ben il 33% in meno, su cui incide tantissimo la chiusura della tratta Termoli-Campobasso. L'Abruzzo, con un meno virgola 9%, si colloca sempre ai primi posti di questa classifica davvero poco nobile. Fa davvero riflettere, rimarca la Cigelle, che in queste stesse regioni, nelle quali si registrano sensibili tagli ai servizi e cari dei viaggiatori, si registrino anche paradossali aumenti tariffari, più 25% per l'Abruzzo e più 9% per il Molise. Altro aspetto inquietante è il materiale rotabile, ormai vecchissimo, a età media 17 anni, ma questo è un problema comune a tutto il sud. Il Molise non ha investito su motrici diesel perché si sta muovendo verso l'elettrificazione della rete, ma questo a parole, perché nei fatti i chilometri elettrificati sono soltanto 60, su un totale di 265, quindi poco più del 20%. Un altro problema rilevante è l'alta incidenza dei chilometri a binario semplice o unico. Per concludere questa carrellata di brutte figure per la nostra regione, dice la CGL, c'è da segnalare che la tratta Campobasso-Roma è stata inserita tra le 10 peggiori d'Italia dalle gambiente pendolaria, 244 chilometri che vedono una concentrazione di problemi nei primi 75, privi di elettrificazione e a binario unico. Basti pensare che per collegare Campobasso a Disernia occorrono 53 minuti con una velocità media di 55 chilometri orari su una linea sostanzialmente vuota. Nella classifica dello scorso anno figurava invece la Pescara-Roma, che ancora oggi, secondo il sindacato, continua a rappresentare comunque una tra le peggiori linee ferroviarie presenti nel nostro Paese.